Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono Giorgio e in questo video vi devo raccontare delle cose importanti. Raccontare del mio paesino dove abito io. Io vivo a San Giorgio, un paesino molto piccolo, ma bello. San Giorgio è un paese molto piccolo, ma lo vedrete dallo scorrere delle immagini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.